Gentili telespettatori, buona giornata. Altra figuraccia per la capa del Partito Democratico, Ellie Schlein. Lei si scontra con il governo sulla nuova legge che riguarda la giustizia, ma i suoi sindaci dicono la battaglia è vinta. Ma in che senso la battaglia è vinta? Viene cancellato l'abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio era un freno tremendo per i sindaci perché, parliamoci chiaro, un sindaco prima di mettere una firma ci pensa mille volte perché ha paura che ogni decisione potrebbe essere interpretata come abuso d'ufficio. Ci sono state migliaia di processi verso sindaci per abuso d'ufficio. Le condanne sono state 18 su migliaia di processi. Quindi i condannati sono lo 0, qualcosa per cento. Significa che qualcosa di sbagliato c'era e il governo lo sta correggendo. Quindi il governo non sta dando l'impunità ai sindaci ma sta togliendo un reato, quello d'abuso d'ufficio, che sta facendo più danni che bene. E così la mezza tregua con la scomparsa di Silvio Berlusconi è già finita. Si riaccendono le ostilità tra governo e minoranza. La minoranza di cui fa parte il Partito Democratico si scontra per l'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio. E l'Ischlein è sempre impegnata a rincorrere i 5 Stelle che non la calcolano per nulla. Solo un caso su 100. Siamo all'1% delle condanne definitive dell'abuso d'ufficio. Quindi 1800 processi, 18 condanne. Senza contare quando i sindaci si rifiutano di firmare le delibere per la realizzazione di opere pubbliche o di altri interventi per paura di finire indagati o dietro le sbarre. Ma questo non basta per l'Aschlein per capire qual è il problema del reato di abuso d'ufficio. Ma lei dice che noi siamo contrari all'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Spiegando che l'Unione Europea sta per approvare una direttiva anticorruzione che chiede uno strumento di quel tipo. Una semplice riforma della fattispecie basterebbe, secondo lei. E comunque aggiunge sbagliato cogliere le motività della scomparsa di Berlusconi per portare avanti a spallate riforme non equilibrate. Ma quella dell'abuso d'ufficio il governo già lo stava facendo. Non è fatta su Berlusconi perché quello dell'abuso d'ufficio se ne parlava già da tempo. Solo che qualsiasi cosa fai qualche giorno dopo la morte di Berlusconi allora è fatta in suo nome. Questa sì l'hanno chiamata la riforma Berlusconi ma l'avrebbero fatta. Anche se Berlusconi fosse stato vivo avrebbero fatto lo stesso questa abrogazione di questa legge. Ma voi sapete che la Schlein, lei dice, io sono all'opposizione. Se voi cercate sul vocabolario opposizione vuol dire qualcosa che si oppone a qualcos'altro, qualcuno che si oppone a qualcun altro. Opposizione noi ci opponiamo, quindi tutto quello che dice il governo noi dobbiamo opporci, se no non siamo opposizione. E non c'è niente di più sbagliato perché l'opposizione non significa opporsi sempre e comunque a tutto quello che fa il governo. L'opposizione significa controllare quello che il governo fa e nel caso criticarlo. Questo è il compito dell'opposizione che poi è anche un ingrediente fondamentale della democrazia avere un'opposizione. Ma opposizione non significa letteralmente dire sempre l'opposto di quello che dice il governo. Secondo voi è normale che ci sia un governo che sbaglia tutto e un'opposizione che invece dice che il contrario è tutto giusto. Non ha senso, è illogico. Una persona, un partito, un governo non può sempre sbagliare, non può sempre avere ragione, c'è una via di mezzo. Ma per lei che fa opposizione, qualsiasi cosa fa il governo è sbagliata e già questo ti fa perdere di autorevolezza perché se per te è sempre tutto sbagliato, se è tutto sbagliato vuol dire che niente non è sbagliato. Niente è sbagliato. Come dire, se siamo tutti sciocchi allora nessuno è sciocco. Se è tutto sempre sbagliato quello che fa il governo tu perdi credibilità. Cosa dirà l'opposizione? Eh, dirà che è sbagliato. Alla fine non la calcoli nemmeno un'opposizione che dice sempre sbagliato. Invece dall'altra parte c'è Renzi e Calenda che valutano di volta in volta quello che a loro sembra giusto o sbagliato. E questa è un'opposizione intelligente. Valutare di volta in volta. Ma secondo la Schlein dire che il governo sta facendo quella roba lì che è giusta, secondo lei è perdere di autorità. E' un po' questo è dato da quei capi aziendali che vogliono avere sempre ragione, che non danno mai ragione al dipendente perché lui ha sempre ragione. Quella è insicurezza. Insicurezza totale. Quindi il comportamento della Schlein significa essere insicura politicamente perché per cercare di farsi voler bene nel suo partito lei dice che tutto quello che fanno di là è sempre e comunque sbagliato. Ed è sbagliato dire che gli altri sbagliano sempre. Perché è illogico, non può essere vero. È statisticamente e matematicamente impossibile. Bene. Ma intanto i comuni invece dicono che esultano, finalmente è stato abolito l'abuso d'ufficio. Non bisogna guardare ideologicamente a questo perché tutti i suoi sindaci sono convinti che si debba mettere mano all'abuso d'ufficio. E sindaci con la tessera del PD. Questo già spiega tutto. I suoi politici sono d'accordo con il centro-destra. Avrebbe dovuto dire la Schlein sono d'accordo, noi in Parlamento voteremo con il governo perché questa norma non va bene, questa legge è sbagliata. Questo avrebbe dovuto dire e avrebbe preso maggior credibilità. Ma la paura è che il governo faccia la maggior parte delle cose giuste e lei dovrebbe ogni giorno dire hanno ragione, hanno ragione, hanno ragione, hanno ragione. Capite anche il problema. Hanno ragione, hanno ragione, hanno ragione. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.